All'alba la città si è svegliata ricoperta da una coltre di rifiuti, nelle zone del centro ma non solo. Un segno tangibile di come gli spazzini fossero passati alla protesta concreta, paralizzando il servizio di spazzamento stradale. Protesta dettata dall'incertezza sul passaggio del servizio di raccolta dei rifiuti che avverrà tra qualche giorno. Nei giorni scorsi i sindacati avevano tentato di trovare una soluzione per far ripartire il dialogo tra amministrazione e operatori. Tutto inutile, dalle prime ore della mattina i dipendenti della DHI sono passati alle vie di fatto. Poco fa da alcune indiscrezioni si è appreso che l'amministrazione russo abbia inviato una nota di contestazione per il mancato servizio. Vi terremo aggiornati.